Sono 2.968 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore su 285.960 tamponi effettuati con un tasso di positività all'1% secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 33 invece le vittime registrate in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.422. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 431. Grazie per la visione!